Ha respinto tutte le accuse Nicola Bisceglia, il 62enne dirigente del reparto di radiologia dell'ospedale di Manfredonia, ai domiciliari dallo scorso giovedì perché accusato di violenza sessuale nei confronti di cinque pazienti. Questa mattina il professionista è comparso davanti al GIP del Tribunale di Foggia per l'interrogatorio di garanzia. Il mio assistito, affermato il legale del medico, ha risposto alle domande del giudice chiarendo la sua posizione. Bisceglia ha un approccio diagnostico molto approfondito, ha aggiunto, e ha precisato al GIP di non aver mai ricevuto alcun tipo di lamentele dalle pazienti. Pertanto si dice stupito per quanto li contestano. I cinque episodi contestati dalla procura di Foggia sono tra il 2004 e il 2019. Il primo risalirebbe proprio al 2004, poi un secondo nel 2005, due nel 2017 e il quinto è del febbraio scorso. E' stata quest'ultima vittima a denunciare quanto accadeva in quella stanza. La polizia, che ha condotto le indagini, sostiene che in alcuni dei cinque casi scoperti il medico avrebbe inventato patologie inesistenti per poter effettuare approfondimenti diagnostici. In questo modo le donne, impaurite dalle loro condizioni di salute, sarebbero state indotte a spogliarsi e lui ne avrebbe approfittato.